Ciao a tutti, io sono Federico Borluzzi, sono un cantatore, abito ad Aosta, suono chitarra e armonica e canto. Compongo delle mie canzoni ma eseguo anche un vasto repertorio di cover, diciamo dagli anni 50 agli anni 70 soprattutto. Tra i miei idoli abbiamo Bob Dylan, i Rolling Stones, i Beatles ma anche artisti precedenti come su tutti possiamo citare il grande Elvis. Oggi sono qui a Milano, sarò qui anche nei prossimi due giorni perché ho colto la palla al balzo, nel senso che questa sera andrò a vedere un concerto di Bob Dylan che sarà qui al Teatro degli Arcimboldi, andrò anche domani sera e nel resto del tempo mi esibisco per le strade. A proposito di Bob Dylan potrei farvi sentire un pezzo suo, direi forse il più famoso, insomma Blowing in the Wind di Bob Dylan e lo faccio sentire. Alcina 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 Yes, how many times must have quite lost life for death for a bit The answer, my friend, is flowing in the wind The answer is flowing in the wind Yes, how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times must have been turned his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is flowing in the wind The answer is flowing in the wind Yes, how many times must a man look up before he can't see the sky? And how many years must one man have before I can hear a good old cry? Yes, and how many days will it take to the nose? That too many people have died The answer, my friend, is flowing in the wind The answer 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 is flowing in the wind Grazie a tutti.